Io rimango fedele a quello che ho fatto finora e non mi sposto di un millimetro. Busser? Aiutiamo le persone nel concreto, uniamoci e facciamo vedere che non siamo pochi e facciamoci sentire. Ce ne sono tanti Roberto di persone. Mi pongo l'impegno, così come abbiamo coordinato, di contattare più leader comunicativi possibili al fine di trovare una sinergia operativa. Lovat? Metterò a disposizione delle persone la mia disponibilità a essere una voce contro sulla base di quello che conosco e farò di tutto per unire il dissenso, per canalizzarlo verso forme di consenso. È l'unica maniera che abbiamo democraticamente di opporci a questo sistema oppressivo. Dobbiamo continuare a scendere in piazza, a tenere viva la piazza e dobbiamo, come detto Stefano, cercare di aiutare le persone che proprio hanno bisogno, non riescono nemmeno a pagare la bolletta.